Un minuto per l'illustrazione dell'interrogazione, tre minuti per la risposta del Governo e due per la replica. Passiamo quindi allo svolgimento dell'interrogazione a prima firma dell'On. Eduva sul rinnovamento delle basi navali di Messina e Cagliari. Do la parola all'On. Eduva per l'illustrazione. Prego, collega. Grazie Presidente, ringrazio la Sottosegretaria per essere qui e rispondere a questa interrogazione. Ma appunto riguarda il progetto di ammoderamento delle basi navali di Messina e Cagliari. Sappiamo che la Maria Militare ha potuto contare su risorse per un valore di 19,2 miliardi di euro per il Fondo della Difesa, finanziato anche al Ministro dello Sviluppo Economico. Ora, il punto è, nel documento programmatico trennale 2021-2023 si parla di basi blu di sviluppo e ci sono investimenti di circa 550 milioni di euro. Tra i maggiori comprensori figurano Taranto, Messina e Cagliari. Su Taranto l'adeguamento sembra procedere secondo i tempi e secondo i piani. Addirittura c'è anche un finanziamento integrativo approvato dal CIPES di 123,8 milioni. Ora, qual è la situazione per Messina e Cagliari considerando che sono due porti importanti per quello che riguarda, anche pensando, quello che deve fare questa Forza Armata in difesa delle ZEE che sappiamo essere zone economiche esclusive che saranno molto importanti per il futuro economico del nostro Paese. Bene, grazie. Onorevole, do la parola al Governo per la risposta. Grazie all'onorevole interrogante. La Forza Armata sta attuando un programma di adeguamento e modernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali denominato BASI BLU che consentirà di supportare le unità navali di nuova generazione e di prossimo ingresso in linea. Tale rilevante impegno contempla interventi infrastrutturali nelle tre basi navali principali di Taranto, La Spezia e Augusta nella base navale secondaria di Brindisi nel periodo 2022-2037. Parallelamente, il programma di adeguamento delle infrastrutture di supporto logistico per gli equipaggi e famiglie denominato OASI BLU contribuirà al miglioramento degli standard abitativi e di vita nelle basi navali della Forza Armata. Seppur non oggetto di interventi diretti attraverso i citati programmi, le basi navali di supporto logistico di Messina e Cagliari rappresentano per la Marina Militare assetti strategici. Ciò in relazione alla posizione geografica prossima ai principali teatri operativi determinante per il controllo della ZEE e dall'Alto Mare sul confine dell'Unione Europea. Tale affermazione di principio trova concreta testimonianza nella recente dislocazione presso Messina e Cagliari di due intere classi di unità navali, in particolare i pattigliatori d'altura della classe Cassiopea Messina e quelli della classe Costellazioni a Cagliari. Pertanto anche al fine di supportare logisticamente le navi e gli equipaggi ivi dislocati, la Marina ha programmato opere di rinnovamento e ricostruzione delle strutture di accosto banchine, opere urbanistiche, impianti fognario, idrico e elettrico, realizzazione di edifici destinati a officine, magazzini e alloggi, nonché l'adeguamento degli impianti dedicati al benessere ricreativo del personale presso le citate basi navali di supporto logistico. Nel dettaglio sono previsti impegni di spesa nel periodo 2022 e 2030 pari a 25,6 milioni per la base di Messina e 10,7 milioni per quella di Cagliari. Bene, grazie. Do adesso la parola all'Onorevole Duva per la replica. Sì, ringrazio il Sottosegretario per la risposta, ovviamente mi ritengo soddisfatto. Lo sarò ancora di più quando ovviamente inizieremo a vedere, a poter toccare con mano questi miglioramenti che chiaramente il Ministero già sta affrontando insieme alla Forza Armata. Io mi permetto di dire questo, che credo sia molto importante l'attenzione che la Commissione difesa, noi membri della Commissione, e ovviamente il Governo sta ponendo su questo argomento. Lo dico perché gli interessi nel Mediterraneo sono molteplici. Penso ovviamente sia per quanto riguarda gli impegni Nato, che sono sempre più attuali, sia per la nascente difesa europea, perché anche quello è un tema fondamentale. Siamo un Paese che ha 8.000 km di costa, un rapporto tra frontiera marittima e frontiera terrestre di 7 a 1, quindi veramente l'impegno che dobbiamo metterci per aiutare la Maria Militare a difendere i nostri confini deve essere massimo. Poi è chiaro, l'interesse che può esserci nel migliorare le infrastrutture al sud Italia, da un lato, beh, non sfuggirà che io sono messinese, quindi è chiaro che non posso essere felice che si possa investire a Messina, ma non è mero campanilismo. In realtà vediamo che il Mediterraneo ha l'1% di superficie marina dei mari, di fatto, degli oceani, e poi c'è il 20% di traffico mondiale, 65% per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda il traffico di materiali insomma legati all'energia, quindi è veramente importante difenderlo e presidiarlo come si deve. Ora è chiaro che oltre questo, quindi oltre all'assetto strategico di investire in queste basi, perché è fondamentale per il pescaggio delle navi, per le banchine, lo sappiamo, non devo dirlo qua dentro, ovviamente ci sarebbe anche ossigeno e rilancio vero dell'economia dell'indotto che potrebbe portare il miglioramento di queste basi per città e territori dove sicuramente questo può portare grandi benefici, quindi veramente questo è il dual use possiamo dire che veramente può piacere a tutti noi, l'aiuto dell'economia legale e ovviamente l'appoggio a quelli che sono interessi strategici del nostro Paese. Grazie. Grazie Onorevole Duva, passiamo ora alla seconda interrogazione, a prima firma dell'Onorevole De Hidda sulle iniziative da assumere per incrementare l'arruolamento nelle regioni del nord Italia. Do la parola all'Onorevole De Hidda per l'illustrazione, prego. Grazie Presidente, Sottosegretario, ho fatto diverse visite nel nord Italia, soprattutto in Alto Adige con la Commissione, anche al Comando Truppe Alpine, ma anche a Gorizia, a Pordenone e visitando queste realtà mi sono accorto che i nostri militari ovviamente devono affrontare dei costi della vita diversi e molto alti rispetto anche al proprio stipendio e questo limita secondo me quello che è poi l'arruolamento perché poi se un militare deve affrontare un costo della vita come quello di Bolzano che è la città più cara d'Italia anche con una qualità di vita alto e non ha delle determinate risorse ovviamente si trova in difficoltà ma è anche quel militare che dal sud viene trasferito lì e ovviamente si trova privo di supporto familiare e deve affrontare una vita. Per questo noi chiediamo quali azioni proponendo che ci siano non delle gabbie salariali come era in passato ma delle misure che ovviamente vadano incontro se un militare viene trasferito sia dal punto di vista salariale ma anche di aiuto alla famiglia, all'alloggio, l'iscrizione in sovrannumero nella scuola materna perché per esempio a Bolzano se un militare viene trasferito non ha la possibilità prima dei cinque anni di avere la residenza e quindi non ha tutti quei benefici che un residente ha quindi si ritrova sprovvisto di qualunque aiuto. Grazie, do adesso la parola al Governo per la risposta. Grazie all'onorevole interrogante. In via preliminare occorre osservare che nell'ambito dei concorsi per l'accesso alle forze armate la forbice tra i candidati provenienti dalle regioni settentrionali e quelli provenienti dal centro-sud è marcata a favore di quest'ultimi e rappresenta da decenni un dato strutturale. In questo quadro l'ipotesi di una diversificazione del reclutamento in base all'area geografica prospettata dall'interrogante incontra un limite di carattere normativo costituito sia dalla natura volontaria che spesso può arrivare ad assumere connotazioni di vera e propria vocazione, dell'accesso alle forze armate tramite concorso, sia dalla struttura unitaria dello Stato che diversamente da quanto avviene nei sistemi federali non consente di operare distinzioni tra i cittadini su base regionale nell'accesso alla pubblica amministrazione. Parimenti l'ipotesi di agire su incentivi volti al miglioramento anche dal lato economico del personale impiegato in determinate regioni, oltre a dover richiedere un necessario esame nel quadro del comparto sicurezza e difesa unitamente alle forze di polizia se non anche nel contesto più ampio del pubblico impiego, comporterebbe comunque differenziazioni che non sarebbero più fondate sull'aspetto specialistico o capacitivo delle unità o dei reparti di assegnazione e pertanto su criteri mirati ad assicurare l'efficienza e l'operatività dello strumento militare bensì sulla mera area geografica. Alla luce delle suscitate considerazioni allo scopo di rendere maggiormente attrattiva un'ipotesi di carriera nelle forze armate e anche per i giovani provenienti dalle regioni settentrionali opportuno invece puntare su un generalizzato miglioramento del trattamento economico nonché su un più semplice e definito sistema dell'effermo in particolare nell'ambito delle carriere iniziali. In tale direzione si muove l'ampi progetto di revisione dello strumento militare contenuto nell'atto Senato 2597 che tutti auspichiamo venga concluso nel suo iter nel più breve tempo possibile che oltre a prevedere la revisione del sistema d'ingresso dei volontari nelle forze armate e del transito nei graduati secondo criteri di maggiore economicità procedimentale contempla un netto miglioramento del trattamento economico per i medesimi volontari. Inoltre anche in prospettiva di maggiore appetibilità di una carriera nelle forze armate occorre segnalare come lo scorso mese di dicembre sia stato finalizzato il provvedimento di concertazione che è intervenuto sul quadro normativo vigente nell'ottica di un diffuso miglioramento del trattamento economico del personale non dirigente della difesa. Infine con riferimento all'ipotesi di facilitare concretamente la permanenza del militare e della sua famiglia nelle medesime località si evidenzia l'attuazione sia a livello centralizzato che locale di iniziativa volte a supportare il personale dipendente nell'equilibrata gestione del bilanciamento tra vita professionale e la vita militare. In proposito si sottolinea come in ambito difesa siano in corso d'opera una serie di iniziative in favore del personale che prevedono la realizzazione sull'intero territorio nazionale di strutture suddivise tra asili nido, centri ricreativi e poli socioeducativi nell'arco dei prossimi dieci anni. Bene, grazie. Do adesso la parola all'onorevole Deida per la replica. Prego. Grazie Presidente. Sottosegretario, sono soddisfatto per la parte finale della risposta dell'interrogazione e sono contento dell'impegno della difesa nel costruire tutte delle strutture che vadano incontro alla conciliazione della vita professionale e familiare. Il problema, io capisco benissimo il contratto, quello che si dice appunto che non bisogna regionalizzare per carità, l'Italia è una, come Fratelli d'Italia siamo i primi a dirlo, ma bisogna prendere atto al di là delle regioni del nord, che anche per esempio chi viene dalla Sardegna, chi viene dalla Sicilia, rispetto se lo si manda a Trento, Vipiteno, è diverso da chi viene da Firenze o chi viene anche a Roma, se uno viene mandato a Roma ha costi più elevati di vita rispetto, e quindi secondo me non è regionalizzare ovviamente e differenziare, però ci sono ovviamente che comporta, se si vuole, che rimangono più del tempo presabilito, se no avremo sempre il problema di personale scontento che lo mandi in regioni ovviamente difficili e poi dopo rimane il tempo necessario e poi chiederà, subisterà il Ministero di richieste di trasferimento per avvicinarsi sempre di più a casa. Se vogliamo invece cercare di armonizzare questa vita e soddisfare la vita del militare e attrarla, e attrarre anche i più giovani che sono diversi da quelli dell'inizio del Novecento, i giovani e hanno altre aspettative e secondo me dobbiamo studiare un piano dove si venga incontro alle diverse situazioni dove si vive. Chi viene dalla Sicilia, per non parlare sempre di Sardegna, se vai a Bolzano devi fare un po' di collegamenti diversi, allora cerchiamo di fare, prendendo atto che la maggior parte dei reclutamenti vengono nel meridione, ricordiamoci anche che i maggiori reclutamenti venivano fatti quando c'erano gli uffici per il reclutamento in ogni regione. Grazie. Grazie, onorevole di Lida, dichiaro chiuso lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata. Grazie a tutti. Grazie.